Avevo bisogno di stare in un posto dove mi sentissi a mio agio. Qui non si tratta di servire una birra o un piatto di fagioli. Diciamo che qui i cowboy sono degli attacabrighe. Stare in un posto che è. Sogniamo di stare fin da piccolino. Ragazzi, benvenuti nel 1888.